Come ci si può iscrivere? Da lunedì 4 gennaio a venerdì 30 aprile sono aperte le domande di iscrizione ai nidi di infanzia che si possono effettuare solo online dal sito del comune di Bergamo. Ci sono 17 strutture che potete conoscere visitando la pagina bambini e genitori a Bergamo. Nel mese di giugno saranno poi esposte le graduatorie degli ammessi e la relativa lista d'attesa. Sono previsti open day? Ci saranno tre incontri online nelle date di lunedì 22 febbraio, giovedì 18 marzo e giovedì 15 aprile a cui ci si può iscrivere compilando il modulo sul sito del comune di Bergamo. Sul sito trovate anche dei link per conoscere gli spazi dei nostri servizi e alcuni aspetti del progetto pedagogico. Quando avviene l'ambientamento? L'inizio dell'ambientamento non è uguale per tutti e avviene a piccoli gruppi nei mesi di settembre ed ottobre. Dura circa due settimane con la presenza di un genitore. È un momento molto delicato in cui la cura e il rispetto dei tempi lenti sono fondamentali per costruire una buona relazione con il bambino e la sua famiglia. dove posso trovare queste ed altre informazioni? Ci sono due pagine internet, una è quella del comune di Bergamo e l'altra bambini e genitori a Bergamo. Ora Anna Chiara, la referente dell'ufficio comunicazione, ve le illustrerà. Tutte le informazioni in merito alle iscrizioni ai nidi comunali della città sono fruibili sia dal sito del comune di Bergamo sia dal sito bambini e genitori.bergamo.it che è il sito del comune di Bergamo dedicato a tutti i servizi per la prima infanzia. All'interno di questo sito ci sono varie sezioni dove potete trovare sia tutte le informazioni relativi a tutti i di dove è possibile iscriversi della città, tutti i servizi dedicati alla prima infanzia del territorio anche di livello superiore a quelli dei nidi e una bellissima pagina che si chiama Edublog che ospita una serie di contributi educativi rispetto ai servizi della prima infanzia. Dal sito del comune di Bergamo quindi verrete reindicizzati per l'iscrizione ai nidi direttamente sulla modulistica online del comune di Bergamo.